Mi sarà archiviato il derby con il Castelvecchio, adesso arriva l'Arezzo al Soprani e trovare tre punti sarebbe importante per andare poi alla pausa per gli impegni della Nazionale con la mente più sgombra. Oggi abbiamo ricevuto una brutta notizia riguardo l'infortunio del nostro difensore centrale Colini, Giulia, gli facciamo tantissimi auguri di pronta guarigione. Per il resto la squadra sta recuperando, sta lavorando con impegno, consapevole che ogni partita è una finale se vogliamo restare agganciati al terreno della promozione. Bisogna anche ritrovare il feeling con il Soprani perché la vittoria manca qui dallo scorso dicembre quindi insomma nelle ultime due gare casalinghe il Ravenna purtroppo non ha fatto punti e bisogna invertire questa tendenza. L'ultima col Genova è stata una non inaspettata perché in questo campionato c'è un livellamento fra le ultime e le prime tolte all'Inter dove c'è un grosso livellamento dove qualsiasi risultato è plausibile. Abbiamo sbagliato qualche occasione e il Genova ha concretizzato il gol così come è successo domenica nel derby. Il Cesena ha avuto la palla del 2-0, è stata bravissima la Copetti a neutralizzare l'occasione, noi abbiamo sfruttato una palla inattiva, ci abbiamo messo il cuore, tanta determinazione nel secondo tempo, poi un episodio, il calcio è fatto di episodi, abbiamo sfruttato l'occasione, abbiamo vinto un derby. D'altronde se si aspetta anche il bel gioco è difficile da vedere nei derby perché c'è una tensione altissima, la voglia di far bene molte volte ti taglia le gambe. Sì questo poi l'avevi già detto la settimana scorsa che i derby sono una parte a sé rispetto alle altre partite di campionato, invece adesso arriva l'Arezzo e che partita ti aspetti? Mi auguro che le ragazze siano consapevoli di giocarsi ogni domenica la partita. L'Arezzo sta in fase positiva, ha fatto un buon risultato con la Lazio che secondo me rimane sempre una delle squadre qualitativamente più importanti del campionato, gli mancano solo i punti, alcuni punti, se no è una squadra molto elarezzo o gli ha tenuto testa, dunque non dobbiamo né guardare come dico sempre le classifiche ma dobbiamo affrontare l'avversario col piglio giusto e la determinazione giusta.